oddio ma sta camminando quello lì si è laggato? no 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 non ho parole salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video quest'oggi siamo su cosa stava succedendo qui? in questo nuovissimo video quest'oggi siamo su far cry 3 siamo su far cry 3 non so benissimo come sarà la qualità perchè è la prima volta che lo registro ho fatto delle prove poco fa e questa mi sembrava la migliore adesso vedrò quando ci sarà ovviamente se lo starete vedendo vorrei dire che forse sarà anche accettabile quest'oggi facciamo questo allora i pirati hanno ucciso il marcellanio nella foresta la solita dove il capo avevo ucciso col pugnale e tutti gli altri come si vuole allora cercherò di farla abbastanza stealth anche perchè col pugnale sai com'è vabbè perfetto iniziamo bene abbiamo preso fuoco allora ci siamo questo dovrebbe essere il posto ecco ok dov'è il capo sarà qua dentro immagino no 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 non cadere grazie abbiamo attraversato un ramo vabbè allora qua c'è uno lì c'è un cecchino lì c'è un cecchino gli sassi si tiravano con G forse qua dentro che c'è ok c'è il tipo spostiamoci immediatamente con V con B con T si si ok non mi ricordavo perfetto siamo a due ok minimale che dobbiamo farla stealth ovviamente no no rifacciamola rifacciamo adesso che abbiamo capito meglio come funziona possiamo farlo senza farci scoprire subito magari allora lì dentro c'è come immaginavo quello da colter ok stavolta seriamente c'è un cecchino qua dovrebbe esserci qualcun altro ah no quello lì penso si che passa di qua intanto ci avviamo dall'altra parte come abbiamo fatto prima ok vediamo se qualcuno passa di qua perfetto non non mi ha visto dimmi che non mi hanno visto dimmi che non mi hanno visto ok sembra che non abbiano sospetti perfetto perfetto potrei forse finire direttamente la missione però vorrei fare una cosa pulita ok perfetto 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 ora e mancano tre cecchino c'è chi non li da solo forse riusciamo spingiamo gli altri due dall'altra parte però vai non ho capito hanno capito che c'è qualcuno qualcosa che non va perfetto eccolo lì nice pulito tranquillo saccheggiamo ottimo lavoro ottimo lavoro incastrato in un tavolo ma si può andiamo la macchina e andiamo ci vediamo là a meno che non si cede qualcosa nel mentro ok a quanto pare eravamo già abbastanza vicini strano che non abbia già fatto questo avamposto perché ci sono dei giorni dove sono in cerca di avamposti che sono tra le mie cose preferite insieme a quelle mini missioni tipo quelle abbiamo fatto prima allora ci sono due corazzati eh quello lì non è brutta roba due allarmi finora ho visto lì c'è una e lì c'è l'altra quindi io direi di provare a fare il giro e vedere anche cosa c'è dall'altra parte sapete che in realtà forse l'avevo già provato a fare o già fatto l'ambientazione mi sembra di ricordarla però pazienza vediamo di finirlo e completare tutto bene qui c'è l'altra allarme che possiamo disattivare subito fatto tutti gli allarmi avendo disattivato così facendo proviamo a tirare qualcuno di qui ok allarme ah ecco forse perché non è riuscito a finire il problema sono i corazzati perché i corazzati o li riesci a prenderla da dietro o da sopra vabbè come ti viene insomma oppure oppure sono complicati perché il punto debole praticamente dovrebbe essere la faccia dove c'hanno il vetro dov'è il secondo corazzato però c'è una grotta va bene torniamo indietro però proviamo così esattiviamo gli allarmi proviamo tranquillamente a passare di qua ok poi lanciamo un sasso di lì per fare rumore noi ci spostiamo cautamente dall'altra parte forse non ce la faccio col corazzato se lui entrasse lì dentro porca cacca cacca ci farei spawnare dalla grotta adesso vabbè altro giro altra corsa dobbiamo provare altre tattiche ok dobbiamo provare altre tattiche non vedevo nessuno mi sembrava strano oh cosa mi vedi da qua noi provassimo colpire quello lì ce l'abbiamo fatta nice no 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 come ha fatto a vedermi qua non mi vedi ok ricapitolando ci sono qui due che parlano l'altro corazzato lì un corazzato lì e un tipo lì io stavo pensando prima di andare da dietro a far prima fuori i loro due il problema è che ci sono due corazzate lì che controllano e lui che dopo fa il giro e passa di lì se lui stessi a distrarlo ok forse non si accorgono me l'ho detto mi fa già sapere dove sono questo ok dall'altra parte dall'altra parte andate dall'altra parte grazie andate dall'altra parte come faccio adesso io ci proviamo ok ok no 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 ma io non ci posso credere ma dai ma è impossibile tentiamo con la tattica di prima circa adesso vedete silenzio silenzio grazie perché potremmo anche fare alla cavolo con le granate così eh però non non voglio far così adesso senza farci notare vediamo se riuscire vediamo se riusciamo a farlo uscire di qua perlomeno tentare di abbatterlo quella era una granata quella era una granata ok perché non mi hanno neanche visto con quale logica soprattutto perché questi mi li fa battere tutta colpa dei corazzati quindi tenterei col cechino adesso stealth è impossibile questa missione è impossibile questa missione guarda sono già all'armata adesso sapranno già dove sono ok ora mancano solo i corazzati e quelli sono un bel problema come sta camminando quello lì ok si è laggato tutto di là ci ho detto che è di là il rumore vuoi andare di là? bravo ora torna indietro addirittura nice colpo alla testa il corazzato no questo grave errore manca solo lui non posso sbagliare bello che non se ne accorge ah se non lo sai te dove sono andato io bello trollarlo no mi ha quasi visto per un pelo non posso sbagliare non posso sono tutti i sassi che tiro ma vuoi andare dove voglio io? c'è l'ultrasenso no ok non sta venendo da me si sta allontanando mi ha visto e si sta allontanando? dai due frecce li avevo disattivati gli allarmi non ci credo l'allarme non ci posso credere ok il primo è andato state fermi un po' c'è una tigre ottimo non mi hanno visto non mi hanno visto ottimo dai ma andate a cagare questa volta è davvero l'ultimo tentativo però che non è possibile non si può andare qua sotto no ho sbagliato voglio farli andare dall'altra parte colpo alla testa tra l'altro nice come è che lui sa sempre dove sono? è impossibile è impossibile no non ci credo no no non è possibile non è possibile basta basta quello lì non lo sopporto più però allora il primo che facciamo fuori è lui indipendentemente da qualsiasi cosa lui è il primo che facciamo fuori dopo di che c'è quello di fianco e l'altro gli ultimi due sono incorazzati a meno che non abbiamo l'occasione per farli prima quello non ci dà fastidio e anzi è abbastanza visibile quindi è meglio non dare troppo fastidio magari facciamo andare le robe tutti verso di là no disattiva quest'allarme bastardo bastardo allarme disattivate lui ovviamente sa che sono qua è certo perché se io sparo dall'altra parte lui viene qua è normale chiunque l'avrebbe fatto no? non credi? eh sì 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 idea 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 ho una nuovissima idea facciamo quello che abbiamo fatto prima brutta idea cioè era anche bella però non ho fatto in tempo a far girare la mina che già mi ha notato perché quello lì sente gli ultrasuoni e niente ci viene da dire possiamo girare tutti verso di là ci arriva il sasso ok poi facciamo tac e niente mi ha già notato quello lì ovviamente dietro l'albero come prima no che quella mi becca adesso no no porca no tigre no tigre attenzione oh dio oh dio oh dio oh dio no 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 non ho parole non ho parole ma com'è possibile questa cosa salva subito salva prima di perdere salvataggio io non ho parole questo gioco è meraviglioso ragazzi meraviglioso ringrazio di cuore voi due sul server non so se li conoscete hanno anche loro un canale per avermi fatto conoscere questo gioco è meraviglioso è stupendo ho già preso le munizioni vabbè ragazzi se volete un altro episodio e se va bene anche la qualità video non abbiamo ancora finito vabbè anche audio però l'audio dovrebbe andare già bene lo so penso di saper se volete che continui a giocare a farcari 4 e dai se volete che continui a giocare a farcari 3 ragazzi trovate tutti i social in descrizione vi ricordo che ogni lunedì verso le 15.30 mi trovate live sul canale viola sul sito viola che trovate qui sotto in descrizione mi raccomando lasciate un bel like se vi è piaciuto il video posso fare quello aereo no eh no vabbè ci sta è la mia squadra e niente alla prossima volta ciao